Buongiorno, sono Iombi Fumo Erve, sono promoter di una società di e-commerce, la Berne Shop Online. Oggi sono parole fondamentali, comunicazione, strategia digitale. Abbiamo conosciuto anche il livello digitale che è una società molto importante a livello italiano e con Gianluca Capone questo corso di formazione è stato fondamentale. Poi abbiamo potuto edificarci sui termini della comunicazione su internet. Sono felice di aver partecipato a questo corso e sarà molto importante anche per la mia crescita personale. Grazie.